ma per fortuna quella situazione si è risolta, ho visto molta gente correre in soccorso di mio padre con un colpo di pistola nella pancia, ho visto l'ambulanza, ho visto che fare del bene è cosa buona in buona sostanza, ho avuto un fiammo del volto, ho visto il primo morto, ho avuto il fiammo corto ho avuto il coraggio di ammettere il mio torto, si affinava la polizia per una colpa che non era mia ho visto spacciatori sulla via, ho visto l'apatia, ho avuto un fratevino intorno, ho avuto anche il perdono ho avuto un incidente mortale, amici all'ospedale, ho avuto qualche donna stupida, qualcuna immorale qualcuna che è stata davvero unica e un sentimento immortale, ho visto chi sta dalla mia, ho visto chi mi giudica ho visto realizzarsi una magia, un amico con la tunica, ho visto il motivo per ringraziare Dio in ogni momento ho avuto più soddisfazione, più di impendimento, più di ripensamento, più di un tormento ho visto la tristezza estrema e il divertimento, ho visto la gente estrema, chi si piega al sistema la cattiveria suprema, una vettetta che trema e un avvertimento orrendo ho avuto minacce, disavventure finanziarie, ho avuto varie storie ordinarie, ottemerarie, in varie fasce orarie ho visto dimensioni immaginarie nel mio letto, mezze donne e femmine statuarie, storie marginali allontanarsi dal mio petto, tutto ciò è perfetto B.J. Johnson 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 B.J. Johnson